che cos'è questo questo canale questo canale è una prova vorrei riportare un po il videogame degli anni 80 90 quello che era di sale giochi io personalmente non sono un gamer professionista non sono un gamer professionista non credo di diventarlo mi piaceva giocare allora e mi piace giocare tuttora quindi oggi voglio portare questo superman di fine anni 80 dove era un gioco bellissimo due mosse calci e poi potevi volare ma in realtà super prendeva un sacco di mazzate ma tante 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 tantissime quindi facciamo come in sala giochi di solito mettiamo i crediti gettoni quindi mettiamo il massimo di crediti e come tutte le sale giochi sono 9 crediti e e possiamo iniziare a giocare facciamo le risate finale più di uno che non è mai capace di giocare a un gioco si verso scompiuta questo giro lo prendo io in tedesco invece ritornano sempre contro si ma tanto vediamo eh ma anche se gioco indietro non riesco a prendere il frisbee proprio non mi si coordina la testa con le mani con quello che voglio fare guarda nooo ma non c'è la ridere anche te infierisci ma non mi doveva caricare il colpo giuro non lo faccio apposta giuro non lo sto facendo apposta oh ma non per una volta che gliel'ho preso andiamo avanti proviamoci li prendo tutti adesso prendo l'americano contro il coreano no io sto gioco non ci sono mai riuscito non ci sono mai riuscito ci ho provato più volte più e più volte mai 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 riuscito si ma almeno provaci fai finta però sono durato più del tempo dai oh ma no no per una volta ecco niente oh ma io li tira indosso si l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto l'ho battuto oh si non ci si crede ecco appunto ecco vabbè qua mi ha fatto un regalo questo è stato proprio un regalo questo è stato scena l'ho battuto l'ho battuto non ci credo vado avanti andiamo avanti andiamo a vincere oh ne ho battuto uno ne ho battuto uno non ci posso credere non ci posso credere mai successo mai successo no questo che c'era il coso in mezzo già faccio fatica a prenderlo di mio perché agli altri carica sotto a me me lo fa cadere eh si tira io lo pure in faccia attenzione attenzione sul tempo qua attenzione sul tempo lo scassa sull'ultimo secondo parlo troppo in fretta no 5 punti non ci credo eh ma non ci devo credere sì sì sono fortissimo eh però adesso c'è la bella 1-1 set final set no 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 ma come fa ma va a cagare ma va a cagare facciamo così piccolo piccolo non l'ho fatto vincere lui che è il gioco che è contro di me è sempre stato contro di me ci mettevo 10.000 lire dentro e non succedeva niente ero sempre lì e non ci arrivavo va bene grazie mortal ormai sei l'istituzione del canale spero che continuerai a essere l'istituzione del canale vediamo se riuscirò a sistemare sta roba dei danni tolgo applaud via immortal ormai sei l'istituzione del canale rimanici per favore così quello che mi dà il maggior sostegno per adesso appena iniziato va bene così grazie a tutti quanti quelli che sono passati transitati ricordo a tutti che sarà ogni mercoledì alle 20.30 con un gioco arcade da giocare in stile arcade ho visto tanti canali su twitch che fanno retro game allora si farò anche io retro game inteso come il videogioco da computer quindi il solitario il single player da computer però farò anche il diciamo che lo stile del canale è più arcade quindi gettoni sala giochi e via come va quei famosi videogiochi dove non potevi salvare non potevi far niente eri in sala giochi e tu avevi 5 mila lire te le devi far bastare perché quando tornavi dai tuoi dicevi eh finito e no quelli ti ho dato quindi dopo un po' iniziavi a giocare i giochi quelli dove eri bravissimo ma il gioco faceva cagare oh immortal non ho mai detto cosa cosa ne pensi della sigla se non l'hai vista passaggino veloce sigla poi puoi scrivere in chat che cosa ne pensi prima che stacco ciao a tutti